Siamo con il consigliere Michele Formagnana, si sono appena iniziate le operazioni di spoglio per le elezioni regionali, ancora un po' presto a fare delle previsioni, però il dato dell'Europea è abbastanza chiaro anche per quanto riguarda le indicazioni sul Piemonte? È un dato assolutamente indiscutibile, c'è stata una netta vittoria del Partito Democratico, bisogna con onestà intellettuale dirlo, evidente a tutti, schiacciante, devo dire è un po' stupito il risultato del Movimento 5 Stelle che sembrava più ampio, quindi qualche riflessione va fatta e va fatta una riflessione soprattutto sull'esito elettorale di Forza Italia, partito da quale appartengo che ha avuto una recessione significativa soprattutto rispetto alle ultime politiche. Per quanto riguarda la vigilia c'erano i timori di un'affermazione da parte del Movimento 5 Stelle che avrebbe potuto creare instabilità per quanto riguarda poi i consiglieri a supporto del candidato presidente, in questo caso si parla del presidente Chiamparino. Oggi alla luce dei risultati delle europee se il PD mantiene alto il tasso di percentuale si potrà escludere l'instabilità, l'ingovernabilità del Consiglio regionale? Ma se i risultati sono questi e credo saranno questi sicuramente sì, indubbiamente Chiamparino avrà i numeri per governare, diciamo che l'elettorato a mio avviso ha premiato per così dire la speranza rispetto alla protesta che è convogliata da sempre nel Movimento 5 Stelle, e quindi probabilmente riuscirà a farcela da solo senza ricorrere perché si parlava anche di questo all'inizio, le cosiddette larghe intese con partiti dell'opposizione. Ultima domanda, in fase di previsione anche la regione nei confronti dell'Europa. Lei crede che una certa forma di rigurgito anti-europeista possa condizionare a favore di alcuni partiti? Vedi la Lega Nord un aumento di percentuale? Ma non lo so questo, sinceramente credo di no. È chiaro che la Lega Nord è aumentata di un 2 punti percentuale rispetto all'europeo, proprio perché ha convogliato su di sé, ha fatto del tema del no euro, chiaramente tutta la campagna elettorale. Quindi tutti quelli che probabilmente la pensavano in questo modo si sono indirizzati verso quel partito. Non credo che però questo sia sintomo di un sentimento anti-europeista particolare.